E' terminata la partita del campionato juniores tra l'Eco e Videoton Crema, che ha visto la vittoria dei padroni di casa dell'Eco. E' qua con noi un giocatore del Videoton, chiediamolo un commento sulla partita. Sì, inizio tempo è stato un po' andato un po' male da parte di tutta la squadra, non c'eravamo con la testa. Dopo un po' siamo entrati al secondo tempo e siamo peggiorati. Poi mancavano giocatori, fisicamente eravamo a maggior parte un po' stanchi e abbiamo cercato di fare il massimo. Non siamo riusciti, però speriamo nella prossima partita come andremo. Ok, grazie, ci vediamo le prossime partite. Ciao ragazzi. Ed ora passiamo ai giocatori dell'Eco con noi Cristian, autore di una rete, mentre vediamo il suo gol e con i suoi compagni di squadra, chiediamoli un commento sulla partita. All'inizio è andata molto bene la partita, ma poi ci siamo ripresi, siamo riusciti ad andare a segno con più giocatori e alla fine siamo riusciti a conquistare la vittoria che ci ha portato a 10 punti in classifica e potremo arrivare davanti alla fine di questo campionato e speriamo di continuare bene. Ok, grazie Cristian, ci vediamo al prossimo momento sui campi. Saluto tutti i nostri tifosi e anche i nostri compagni di squadra.